Lettera del Comitato Inquilini ERP al Presidente della Regione Marco Marsilio per sollecitare interventi importanti sulle case ATER e sugli sfollati che da 26 mesi hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Una situazione su cui gli inquilini però chiedono di non toccare i vertici dell'ATER che conoscono bene la situazione che hanno lavorato fino ad oggi per avviare i lavori. Non perché noi dovremmo proteggere qualcuno, semplicemente perché abbiamo assistito a molti cambi ai vertici anche qui all'ATER e quando c'è stato da criticare non abbiamo lesinato le nostre critiche. Quindi adesso che questo commissario è arrivato da circa nemmeno un anno credo e quindi abbiamo potuto constatare la massima disponibilità, tutto quello che un commissario, ovviamente la ricostruzione purtroppo non dipende esclusivamente dal commissario ATER e quindi adesso ricominciare da capo con un'altra sostituzione, al massimo potrebbe arrivare un altro altrettanto disponibile che però ovviamente avrebbe bisogno ancora di tempo per prendere in mano la situazione, conoscere gli ambienti dell'ATER, vedere le carte e tutto e quindi si perderebbero altri mesi senza costruire nulla. Avete avuto delle risposte da parte della Regione? No, abbiamo semplicemente, ci sono state delle polemiche che noi appunto non manco rispondiamo perché non ci interessano né poltrone né fare polemiche ma semplicemente accelerare questa ricostruzione perché è chiaro che dopo quasi tre anni siamo ancora al punto di partenza quindi non è che ci possiamo dichiarare soddisfatti, però se poi ci mettiamo pure a perdere altro tempo per non so quali motivi, ovviamente sempre per un cambio di poltrone, questo si potrebbe anche evitare.